All'inizio questo disco doveva essere un disco di ambient ma poi la definizione mi stava un po' troppo stretta, ho cercato di allargare gli orizzonti e siamo andati in 12 direzioni diverse. Mi specchia quello che è anche il mio rapporto con la musica, perché sono sempre stato con un background molto vario. Ando ad essere abbastanza requieto, quindi questo album credo che mi rappresenti molto. Dovevo fare il disco qua e dovevo far vedere cosa sono e far vedere posti dove sono nato, perché questo è il posto dove poi alla fine è nato un sogno e dove ancora sto sognando. Non è cambiato niente fondamentalmente. Ho avuto il privilegio di vedere tanti posti, però io sono italiano. Grazie. 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 Grazie.